Proseguono le celebrazioni del quarto centenario della morte del principe dei musici Carlo Gesualdo, figura che a distanza di secoli continua ad affascinare e ad ispirare. L'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani e del Comune di Gesualdo, con diversi incontri cominciati il 5 settembre, hanno voluto illustrare al pubblico i nuovi orizzonti del progetto Gesualdo Domani. Gesualdo Domani è il titolo della nostra iniziativa, che è accompagnata dall'ulteriore specificazione verso orizzonti nuovi. È un progetto che è nato dalla celebrazione istituzionale del quarto centenario della morte di Carlo Gesualdo e prosegue quest'anno nel tentativo di dare forma, corpo a quello che è la varietà, la complessità del mondo gesualdiano, inteso proprio in termini di cultura gesualdiana. Come ormai molti sanno, Carlo Gesualdo, rispetto ai contemporanei, ha avuto questa fortuna di uscire dalle pagine dei manuali, di uscire dalle sale degli archivi per parlare agli altri campi del sapere e della conoscenza, dalla letteratura al teatro, dalla filosofia al cinema, al teatro e così via dicendo. E quindi il nostro tentativo è percorrere tutte le strade che conducono alla migliore comprensione della complessità del mondo gesualdiano. Quest'anno i lavori che si sono aperti nell'ex convento dei Domenicani di Gesualdo con la straordinaria lezione di Davide Megnagi, docente di psicologia dinamica, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Roma III, sono continuati nello splendido Palazzo Pisapia. Presente è Mauro Giancaspro, storico direttore della Biblioteca di Napoli. Beatrice Cecaro, ricercatrice e discendente dei di Sangro, ha presentato il suo libro Madre di Pietà. Nel giallo storico l'autrice è riuscita a svelare i misteri posti all'origine della cappella San Severo di Napoli. È un grande momento presentare qui la storia di Madre di Pietà nella terra del principe Carlo Gesualdo, il principe che poi ha ucciso Fabrizio Carafa e Maria Davalos, questo è Fabrizio Carafa da cui poi io discendo. La morte di Fabrizio Carafa poi determinerà la nascita della cappella San Severo perché sua madre Adriana, per salvare l'anima del figlio, non avendo potuto salvare il corpo e la vita ovviamente, dedicherà il resto della sua vita alle prove della salvezza dell'anima in una vera e propria via Crucis che la porterà ad avere, diciamo, trasogni, illuminazioni di Santi e Beati dell'epoca come Sorosola Benincasa che garantiranno la salvezza di Fabrizio che sarà poi, diciamo, accertata e accettata dalla Chiesa. Grazie a tutti.